Nel corso dell'edizione 2024 di Terra Madre, Salone del Gusto di Torino, si è tenuto lo show Cookie, il primo cooking show live dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Cookie, azienda da sempre attenta alla sostenibilità da oltre 13 anni, ha sposato il progetto Cookie Save the Food. Cookie è una marca che da 50 anni aiuta i consumatori italiani a conservare al meglio i propri prodotti nel frigo, nel freezer di casa. Nel 2011 abbiamo iniziato a collaborare con Banco Alimentare che aveva bisogno di contenitori per raccogliere il cibo avanzato delle mense e trasferirlo a strutture caritatevole alle persone che avevano bisogno. Da quell'anno abbiamo cominciato a regalare centinaia di migliaia di vaschette e dopo 13 anni il progetto ci ha portato a raccogliere ben 25 milioni di porzioni insieme a loro. Da questo poi abbiamo cominciato a fare tante altre attività perché è un po' nella mission della marca, nel 2014 abbiamo lanciato una sezione del sito che si chiama Cookipedia che racconta e spiega come conservare al meglio i prodotti dei consumatori. Nel 2016 con la legge Gadda che permette di portare a casa il cibo avanzato nei ristoranti abbiamo creato la Save Bag, un contenitore che forniamo a tutti i più grandi gruppi di ristorazione per invitare i consumatori a fare questo. e in ultimo atto abbiamo lanciato un'app che si chiama Cookies Save the Food per la gestione del freezer a casa quindi per ricordarci che cosa abbiamo nel surgelatore e anche ricevere una notifica quando questi prodotti sono stati troppo nel congelatore quindi è ora di scongelarli. Durante l'evento la food organizer Serena Ioppolo ha illustrato le buone pratiche da adottare per limitare lo spreco alimentare in casa mentre Susanna Di Natale ha preparato e fatto assaggiare al pubblico un piatto della cucina emiliana realizzato con cibo di recupero. Per i nostri clienti soprattutto le giovani generazioni, le persone che hanno più o meno la nostra età quindi in un range tra i 20 e i 30 anni l'antispreco sia una tematica fondamentale per riuscire a raggiungere la sostenibilità su più fronti sia alimentare che ambientale. I nostri clienti ad esempio ci chiedono sempre più spesso piatti vegetariani o vegani in quanto più sostenibili e molto spesso anche ricette con ingredienti antispreco come quella che presentiamo oggi che sono i pizzarei e faseux, un piatto di recupero in cui si usa panera a fermo avanzato dalla settimana. La conservazione e la corretta gestione del frigorifero e del freezer è importantissimo, un po' come dire prevenire è meglio che curare in medicina, quindi tutto ciò che noi riusciamo a conservare al meglio e quindi a salvare e a evitare che venga gettato è risparmio per noi e soprattutto è cibo sprecato che siamo riusciti a risparmiare. Quindi è un messaggio molto importante che mi sento di lanciare da food organizer ed esperta di conservazione degli alimenti e questo per me è un tema molto caldo e che ogni giorno mi batto perché sia un tema di interesse per tutti. Con questo progetto Kuki ha messo in campo tutto il suo know-how sulla conservazione del cibo con un duplice obiettivo, sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e fornire un aiuto concreto.